Vuoi vincere skin e pass battaglia o un qualsiasi regalo da partima su Fortnite? Molto semplice, basta iscriverti al canale attendo la campanella e le notifiche Lasciare un bel like e condividere il video a tutti i tuoi amici E infine mandarmi le richieste sul mio accanto dove faccio i regali In questo modo avrete le possibilità di ricevere un qualsiasi regalo da partima su Fortnite Ovviamente più amici vuoi riscrivere e più possibilità di vincere avrai Non mancherà delle mie live su YouTube se vuoi provare a vincere skin e pass battaglia o V-Bucks Inoltre ricordo che se vuoi puoi supportarmi nel negozio oggetti Fortnite Inizierai nel mio codice creatore da Cini E se vuoi puoi mandarmi la foto su Instagram così potrò risponderti e ripostarti Bene a tutti in questo nuovo video, video appunto breviste andrò a vedere come potreste la sfida Cioè esattamente di fare eliminazioni con meno di 50 morti Qui praticamente dovremmo startare una qualsiasi partita e dovremmo aspettare di essere in meno di 50 Quindi davvero molto semplice e successivamente dovremmo andare a fare un'eliminazione Non so se riesco ad eliminare questo avversario ma non penso che ha eliminato Qui davvero molto semplice andate a fare l'eliminazione e portate a casa questa sfida Non so quante dovete fare però probabilmente solamente una Quindi molto probabilmente solamente una dovremmo farne E ci porteremo a casa questa sfida Qui spero che questo video sia stato d'aiuto Se così vi ricordo di lasciare un bel like e iscrivervi sull'altra campanella delle notifiche Con ci siamo aggiornati su questi tipi di video Le live lo schieno vado a taglia Infine condividi questo video Ci vedete amici e mi fai dare anche a loro Come potremmo questa semplicissima sfida di seguire eliminazioni con meno di 50 morti Noi ci vediamo per questo video e una prossima live Noi ci vediamo per questo video